Le parole. Le parole sono la sovrabbondanza del tuo cuore, armi bianche, mattoni per costruire il destino degli uomini o cannonate per distruggere le loro città. Sono l'essenza del pensare, l'estremo scintillare del tuo buon tesoro o della matassa di bugie e di cattiveria. Sono lo specchio in cui guardare chi sei. Le parole sono la tua anima perché tu sei quello che dici.